Sale l'attesa per il Calendimaggio di Assisi in TV. La grande novità di quest'anno, grazie alla collaborazione tra l'ente e la nostra emittente TRG, consiste di quattro puntate d'anteprima. Il ciclo di appuntamenti si apre questa sera giovedì alle 21 sul canale 11 del Digitale Terrestre. La prima di una serie di quattro trasmissioni dedicate al Calendimaggio di Assisi è prodotta da TRG in collaborazione con l'ente Calendimaggio. Nel corso di questa prima puntata, incentrata sulla storia della festa, andranno in onda le interviste del presidente, dell'ente Paolo Scilipoti, dello storico medievista dell'Università di Perugia, Francesco Frascarelli, e del direttore della Cappella musicale della Basilica di San Francesco, padre Giuseppe Magrino. Assisi nel 300, era ai suoi massimi splendori, da un punto di vista economico, e c'erano due famiglie, la famiglia dei Nepis e la famiglia dei Fiumi, rispettivamente della parte di sotto e della parte di sopra, che si contendevano il dominio della città, con lotti cruenti. La gente comunque trovava il tempo, nel periodo della primavera, di festeggiare comunque la festa, il ritorno della primavera, appunto con bevute e con canti e con balli. Questa tradizione è perdurata nei secoli, fino al 1954, quando ha assunto la forma che noi adesso abbiamo, che noi adesso viviamo. Grazie ai suggestivi video di repertorio e a quelli della passata edizione, prodotti da Invideo Assisi, i telespettatori di TRG viaggeranno nel tempo, scoprendo la bellezza del Calendimaggio in 50 minuti di interviste, video storici e contenuti musicali. La prima puntata del Calendimaggio di Assisi andrà in replica su TRG, canale 11 del Digitale Terrestre, anche domani, venerdì 17 aprile alle 15, dopodomani, sabato 18 aprile alle 19, e domenica, 19 aprile alle 12. Ulteriori repliche anche su TRG1, il canale 111 del Digitale Terrestre, sempre domani, venerdì 17 aprile alle 22.30 e lunedì 20 aprile alle 21. TRG sarà inoltre la prima emittente televisiva che, indifferita di poche ore, trasmetterà le scene e la serata finale del Calendimaggio, mostrando a tutti la bellezza di una festa, sinora per sua natura, celata dalle antiche pietre dei vicoli della città. Dunque, primo appuntamento questa sera alle 21 sul canale 11 del Digitale Terrestre.